Il Papa, il Vice Dio, nostro Signore, è un Padre Eterno come il Padre Eterno, cioè non more, o per di meglio, more, ma more solamente nell'isterno. Che quando il corpo suo lascia il governo, l'anima, fermai nell'antico onore, non va né in paradiso né all'inferno. Passa subito in corpo al successore. Ah, così può variarsi un po' il cervello, lo stomaco, le orecchie, il naso, il pelo, ma il Papa, in quanto a Papa, è sempre quello. E per questo ogni corpo destinato a quella indignità casca dal cielo senza anima e non porta antroverfiato.